e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video io sono gabrielante 3 oggi ragazzi però penso che si vedono le ombre non lo so e finalmente mi sono comprato il green screen quindi sono adesso dentro il gioco e con a metà tipo qui o qua non lo so così posso uscire dalla webcam e andiamo a giocare a Brawl Stars oggi faremo una challenge andremo a fare una challenge cioè se uso la super il video finisce andiamo a fare delle partite in singolo utilizziamo Corvo che la super serve tanto quindi in singolo ho fatto in due vabbè e niente raga così pienamente mi sono comprato il green screen potrò fare tanti bei effetti cioè veramente tantissimi e niente così il green screen ho potuto utilizzare delle mie frasi che utilizzo che faccio dei miei dei pezzettoni di miei e metterli nei vostri col green screen avuto mettendo tutto trasparente e non so se voi sapete farlo comunque se volete una guida e basta me lo scrivere qui sotto nei commenti ok cerchiamo di non utilizzare la super è molto difficile se no poi il video finisce niente raga cerchiamo guardate ovviamente è bellissimo sto coso ok allora devo giocare c'ho la super è pronta ma no speriamo che non la utilizzo perchè sennò succede succede una cosa ok è morta senza che utilizzo la super ok allora sto utilizzando il secondo gadget che non so com'è però l'ho utilizzato il mio fratello e mi sono dimenticato di cambiarlo e niente e doanna così fratelli e doanna così ok ok cerchiamo di uccidere sto tizio qua ok morto no raga ok ok non siamo ancora morti niente raga però non abbiamo utilizzato la super la terza partita ho vinto la sfida quindi dovrete lasciare un mi piace iscrivetevi al canale ma questo lo dovete fare pure lo stesso dovete qui sotto 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 a si oppure qui qui c'è scritto clicca cliccate qua e cliccate qui la campanellina per non perdervi nessun mio video lasciate un bel like e iscrivetevi mi sono sbagliato continuiamo con il video condividetelo pure ok andiamo a fare una partita di solo stavolta così magari completo pure delle sfide cos'è impossibile però ok ragazzi scusatemi se tipo qui vedete lo sfondo va una maglietta blu e quindi penso che fa comunque il discrivete speriamo di no ok ragazzi intanto cerchiamo di non utilizzare la super perchè non l'abbiamo nemmeno caricata ok lascerò lenta quindi devo scappare e si prendo più velocemente ok no però ok qui c'è il bombardino è morto è morto è morto cerchiamo di uccidere Mr. P ok ok che sto cercando di non ragazzi scusatemi se vi dico già da subito questa cosa per lo speciale 1000 iscritti che sarà quando raggiungo i 1000 iscritti quindi fatemi qualche domanda da rispondere appunto nello speciale perchè se no non ho domande e quindi non lo posso fare mai che lo voglio fare fatemi domande già da subito scrivendo a in un'altra cosa più speciale 1000 iscritti e poi facendomi una domanda così vi posso rispondere nello speciale nooo non 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 che